Mi piace la paura, eh? Mo' ve racconto una storia vera di paura ardo che ha lui. Ascolta, ho un problema. Eh, dillo a tuo papà. Mi sono fidanzato. Ma meraviglioso! Con un'umana? Benvenuti! Dovete promettermi che non userete i vostri poteri su di lei. Come sei bella, Luna! Grazie, Brunelde. Mi chiamo Salma. Salma! Noi tutti dobbiamo accettarla. Credo che lo zio ti abbia preso in parola. Ad Alberto. Quell'animale è il padre della ragazza. Scusate l'improvvisata, noi abbiamo rimediato solo questa. E comunque è una signora a bottiglia, voglio dire. Sono sempre due piotte. Piotte. Figo. A te te si tengono per piacere la pensione dei mali di Davi? No, io c'ho il capannonimo in testa tutta a mia moglie. C'avevo i guidagli a qua. Quelli che succhiano il sangue. E che te lo dica a fatti? Adesso vado da Alberto e me lo riprendo. Non so, voglio diventare un vampiro. Mortimi, che ti costa? In fondo ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, no? Io voglio vivere da umano. Quindi l'hai detto chi sei? Non lo vuoi capire che se ti morto ti succede come a me, non diventerai mai adulto. Ma li hai visti gli adulti?